Sì, allora eravamo lì a San Pier d'Arena, c'era un gruppo di compagni del fronte della gioventù questo, che dunque facevamo, non so, io per esempio nel 44, il 7 di novembre, sono andata a mettere una bandiera rossa sopra una bete alto 30 metri. I ragazzi non erano capaci ad arrampicarsi sugli alberi. Io mi sono arrampicata, io sì, perché io mi arrampicavo sugli alberi, abitavo in un posto dove avevamo gli alberi, avevamo un po' di campagna, avevamo l'uva, avevamo le pesche, le ciliegie, avevamo un bel ciliegio, sugli alberi c'ero io, quindi ero capace io ad arrampicarmi sugli altri. Insomma, che io mi sono arrampicata su questo abete, ho messo un bel cartello, cosa ci avevamo scritto, non mi ricordo, ci avremmo scritto viva Stalin, io non lo so, o viva il 7 novembre, non lo so io, cosa ci abbiamo scritto non mi ricordo, però abbiamo messo pure un cartello, attenzione che c'è la mina, non c'era un bel niente, però ce lo mettevamo. Poi andavamo a girare tutte le frecce, i tedeschi mettevano tutte le frecce dove dovevano passare, dove dovevano andare, no? E noi le spostavamo tutte dall'altra parte, dovevamo fare quel lavoro, andavamo a fare le scritte, viva Stalin, viva la pace, l'affare così, anzi. il pane, perché c'era la lotta per il pane e per la pace, perché di pane ce n'era poco, il pane era razionato e ne davano un etto a testa e tra l'altro davano del pane che ci mettevano dentro, macinavano dei fagioli, persino della polvere di marvo, macinavano, buttavano dentro una farina per far pesare di più. Ma quando andavate a fare le scritte? Di notte? Quanto uscivate? Come funzionava? Eh, di sera. Di sera. Si andava di sera, ma dovevamo stare attenti perché dopo le 10 c'era il coprifuoco. Allora, come si faceva? C'erano i torrenti, si passava sul torrente e lì non passavi sulla strada perché sulle strade c'erano le ronde e quindi potevano beccarti durante il coprifuoco, non doveva girare nessuno. Però noi avevamo questi torrenti. C'era un piccolo torrente che finiva nel Polcevera e quindi c'era il Polcevera che finiva a San Pierdarena in mare e veniva giù, dalla montagna, dai Giovi, credo. Veniva giù. Quindi ne avevamo della strada da percorrere finché volevamo, insomma, lungo il fiume. Quanti andavate? Lì secondo. Di solito erano i ragazzi che facevano quel lavoro lì. Noi donne eravamo impiegate quando dovevamo portare i volantini, che li portavamo noi, oppure le armi quando andavano a fare un'azione, la rivoltella e insomma quelle cose lì. Allora le portavamo noi perché gli uomini erano facilmente perquisibili, ecco. Perquisivano più facilmente che le donne. Infatti mi ricordo che mia sorella un giorno era sul tramvai e aveva una borsa piena di verdure e dentro aveva una rivoltella. Ora, quando le brigate nere fermavano il tram, si mettevano due dall'uscita e due dall'entrata. Quindi nessuno poteva né scendere né entrare. Poi c'era mia sorella che aveva questa borsa con sta verdura e la rivoltella dentro, no? E dietro c'era anche il compagno per il quale portava questa rivoltella, no? Cosa fa mia sorella? Scende, c'era la brigata nera, con un sorriso dice, me la tiene per favore? Questo le prende la borsa, le la tiene, lei scende perché aveva un'altra borsa. La borsetta le avevano, la borsetta e poi questa borsa. Questo le tiene la borsa, lei scende, grazie, gli fa un bel sorriso e se ne va. Sì, è successo questo. Eh, avevamo, dovevamo avere un po' di faccia buona, tranquille, e tranquille noi eravamo, anch'io tranquillissimo. Sono trovata diverse volte in situazioni così. e poi eravamo di bell'aspetto, ci fanno un bel sorriso e i giovani, anche i soldati erano giovani e quindi, insomma... Quindi poi hai delle fotografie da farci vedere dell'epoca? Volevi vedere le fotografie? Pari dopo, sì, volentieri.